Eccoci qui, appassionati appassionati di calcio, ben trovati, San Siro alle mie spalle che celebra la vittoria dell'Inter che torna con una prestazione convincente a battere l'Atalanta e ad andare quindi in semifinale di Coppa Italia Allora, in questa analisi a caldo vediamo chiaramente la parte tecnica, migliori e peggiori e poi qualche considerazione Allora, la menzione speciale ragazzi è per Matteo Darmian, eroe umile, migliore in campo in assoluto non solo per il gol che sblocca la partita nel secondo tempo ma per tutta una fase difensiva di supporto alla manovra e soprattutto non sbaglia nulla che ragazzi non fa rimpiangere Skriniar io questo lo butto subito lì, Darmian come braccetto è sempre stato un giocatore molto molto utile impiegato quasi sempre come quinto di destra però attenzione perché tutta la difesa dell'Inter, anche a Cerbi, lo stesso che Vrai nel secondo tempo soprattutto, sono usciti molto molto bene ma vediamo la partita ragazzi, l'Atalanta che decide di affrontare l'Inter stando con la linea 3 di difesa bassa, quindi cercando di non dare la profondità all'Inter soprattutto a Lukaku, marcato sempre a uomo da Gensiti partita che nel primo tempo non offre tanti occasioni chiaramente è molto meglio l'Inter che ha più occasioni dell'Atalanta la più clamorosa è il palo di Ciananolo con un sinistro pazzesco dal limite grandissima azione comunque ben orchestrata dall'Inter che non è nuova a queste trame veloci quando ha un minimo di spazio tra difesa e centrocampo dell'Atalanta e appoggiandosi su Lukaku che nel primo tempo insomma si è visto ma è stato un po' troppo pesante e macchinoso mentre secondo me nel secondo tempo, nei 25 minuti in cui è stato in campo ha creato di più, spalla la porta, ha fatto due ottimi sponde una soprattutto stava mandando in porta Lautaro ed è un giocatore che secondo me è molto in crescita in crescita altri due giocatori dell'Inter Robin Goses, sicuramente migliore, nettamente migliore a sinistra lui rispetto a Dumfries dall'altra parte e poi ha visto anche De Frey come detto prima in ripresa buona la prestazione di Lautaro che però con la fascia di Capitano forse abusa troppo nell'andare a protestare con l'arbitro che poi lo ammonisce poco prima di essere sostituito da Simone Inzaghi un po' male Onana, nell'unica occasione grossa che l'Atalanta esce male, poi Mele spara fuori e poi anche lo stesso Dumfries l'ho visto ancora un pochino sottotono più coinvolto dai compagni nell'azione ma ancora davvero troppo impreciso nell'Atalanta nulla da dire, Gasperini ripeto ha creato veramente poco e ha tenuto un ritmo di partita anche molto basso non mi aspettavo un'Atalanta diciamo così sotto ritmo nel secondo tempo nonostante l'ingresso di Lukman che è on fire e Oilund ha creato davvero poco quindi Atalanta che riesce un pochino ridimensionata da questa partita mentre l'Inter ragazzi ritrova un'altra prestazione convincente era dal derby che non vediamo un Inter così convincente e adesso vediamo il nuovo derby quello che ci sarà domenica a San Siro qua alle mie spalle che potrà veramente dire tanto sia sulla crisi del Milan che sulla corsa al piazzamento Champions buonanotte a tutti ragazzi